Buongiorno a tutti, io sono Margherita Tufarelli e sono stata assegnista nell'ambito di questo programma con il progetto AVO, archivio vivo, nuove modalità di diffusione e riuso per il patrimonio culturale della moda. Il responsabile scientifico di questo progetto è la professoressa Elisabetta Cianfanelli e siamo all'interno dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare nel DIDA, Dipartimento di Architettura, nell'area del design. Il progetto AVO partiva dal presupposto che gli oggetti culturali digitalizzati rappresentano potenzialmente un sistema di conoscenze aperto, aperto a dei molteplici usi, riusi e interpretazioni. Tuttavia gli archivi digitali spesso non trovano sufficiente risposta nel pubblico in termini di consultazione o di impiego e alle volte non sono nemmeno conosciuti dai possibili destinatari. Quindi con particolare riferimento agli archivi tessili e di moda, il progetto intendeva indagare il ruolo contemporaneo dell'archivio, sviluppandone le potenzialità e cercando di elaborare nuove soluzioni applicative che potessero favorire la diffusione ed il riuso del materiale ai fini di didattica, di ricerca, ma anche come fonte di ispirazione per i progettisti e più in generale i creativi. Siamo quindi come dicevo nell'area del design e nella dimensione del rapporto che il design ha con il patrimonio culturale secondo diverse accezioni, quindi una progettazione a servizio del patrimonio culturale ma anche una progettazione che a tutti gli effetti se consideriamo che il design fa parte delle industrie creative e quindi culturali è essa stessa parte del patrimonio culturale e produce patrimonio culturale, in particolare quando facciamo riferimento al fashion heritage. Siamo quindi nel contesto del fashion heritage e degli archivi digitali del fashion heritage e nel più ampio contesto della rivoluzione digitale considerando e toccando temi come la memoria e l'identità sia culturale sia chiaramente memoria e identità anche d'impresa perché il fashion heritage è trasversale ed è prodotto anche chiaramente da imprese. Come partner per il progetto abbiamo avuto la fortuna di avere partner istituzionali ma anche partner aziendali, il progetto si è svolto in partnership con il PIN, con l'Università della Città di Prato, European Fashion Heritage Association che è un'associazione che si occupa di raccogliere e valorizzare il fashion heritage europeo, il comune di Prato con il museo del tessuto e tre aziende, una maglia dedicata a un'azienda specializzata nella confezione di capi d'abbigliamento, due Cicoveri che è un'azienda specializzata nella produzione di minuterie metalliche per accessori moda e Cipriani Couture che è un acceleratore d'impresa nell'ambito della moda. Come metodologia e approccio alla ricerca è stato utilizzato un approccio research through design che è un approccio che impiega delle azioni basate sul progetto per contribuire all'avanzamento delle conoscenze con i metodi e processi della pratica del design, è un tipo di approccio che pone l'accento sugli obiettivi della ricerca però non esclusivamente sulle soluzioni progettuali e dà un grande rilievo alla produzione di prototipi, test, nuove idee allo sviluppo di procedure per riuscire a produrre un tipo di conoscenza che è comunicabile. I prototipi infatti hanno avuto un ruolo essenziale in questo progetto perché funzionano come componenti sperimentali che possono migliorare il ruolo che gli artefatti possono produrre in un processo di ricerca rendendolo per l'appunto osservabile, esplicito ma anche condivisibile con altri. Infatti in genere quando si utilizza questo approccio i risultati sono facilmente trasferibili alle comunità di pratica. Per entrare nel contesto di indagine il progetto è iniziato con un'indagine sullo stato dell'arte degli archivi moda in termini di oggetti ma soprattutto di contesti, finalizzata di individuare gli attuali utenti di riferimento degli archivi moda ma anche delle possibili aperture future. Il fine di questa indagine era quella di individuare delle lacune, delle aree di intervento ma anche soprattutto delle best practices. L'indagine si è composta di una revisione della letteratura di riferimento chiaramente e di un'indagine sugli archivi digitali delle istituzioni culturali, sugli aggregatori di archivi e anche su quel mondo nel quale poi abbiamo effettivamente trovato le best practices che sono gli archivi di impresa. Dall'indagine è emerso che l'importanza delle tracce del nostro passato risiede nel loro essere fondamentali per comprendere il presente ma anche per costruire il futuro perché infatti ci troviamo di fronte ad un'india di per la quale consumo e produzione di cultura fanno parte di un unico processo che è storicamente fluido e fa parte di un continuum. Infatti abbiamo assistito nel tempo a uno spostamento dell'attenzione dagli oggetti ai processi, quindi dalla protezione dell'oggetto in sé che merita chiaramente di essere tutelato ma ha una tutela aggiuntiva che contempla anche il processo che ne permette la creazione. Ne consegue quindi che l'heritage è profondamente radicato nei contesti che lo generano secondo una visione dinamica della cultura che produce e riproduce continuamente le sue espressioni. Per quanto riguarda l'indagine sullo stato dell'arte e l'esame della letteratura di riferimento riguardo gli archivi digitali sono emersi due ordini principali di chiamiamoli problemi, più che altro sono delle questioni. Il primo è tecnico-tecnologico che risiede nell'obsolescenza dei supporti e in tutto quello che può rientrare nell'ampio tema della digital preservation. Dopodiché abbiamo la questione che riguarda la trovabilità del materiale perché chiaramente ciascuna istituzione, museo o impresa ha digitalizzato secondo i propri criteri e quindi gli aggregatori, la nascita degli aggregatori ha cercato di dare dei modelli universali alla trovabilità di questi dati per dargli interoperabilità e quindi riuscire in qualche modo a creare una corrispondenza univoca. C'è però anche una questione di tipo culturale perché siamo di fronte a delle vere e proprie sfide progettuali di politiche culturali e strategiche che ci portano a definire che cosa effettivamente deve essere digitalizzato e come presentare il materiale digitale chiedendosi in pratica a che serve quello che stiamo digitalizzando. Tutto questo ulteriormente complicato dalla comparsa dell'utente remoto che rende l'archivio digitale potenzialmente utilizzabile da chiunque in qualunque momento in qualsiasi luogo, non quindi più solamente da esperti di dominio. Proseguendo con l'indagine è emerso quindi che le istituzioni culturali hanno quasi tutte chiaramente digitalizzato nell'ultimo ventennio il proprio archivio rendendolo disponibile online a un pubblico differenziato. Sono nati diversi aggregatori di archivi che hanno lo scopo di raccogliere il materiale proveniente dalle istituzioni culturali e anche talvolta dalle imprese per poter costruire un luogo dove accedere a più materiale contemporaneamente chiaramente in remoto. Le best practices però come avevo anticipato sono effettivamente riscontrabili nell'utilizzo che le imprese hanno dell'archivio perché nelle imprese moda l'archivio storico è risultato è avere un ruolo attivo e operativo nelle attività quotidiane per la nuova progettazione per lo sviluppo di nuovi prodotti ma non solo l'archivio si è rivelato uno strumento essenziale propedeutico all'inserimento di tutte le altre le altre strumentazioni e procedure relative alla transizione digitale. Tutto quello che riguarda una digitalizzazione dei processi produttivi o dei processi progettuali contempla necessariamente la costruzione di un archivio storico d'impresa. Ecco quindi che gli archivi da terreno metodologico della storia iniziano a diventare uno sfondo di una serie di discipline. Questa svolta archivistica in letteratura viene identificata con Archival Turn. Siamo di fronte quindi ad un archivio vivo animato che porta un cambiamento profondo di pratiche e priorità. Siamo di fronte ad una trasformazione di tipo quantitativo perché è possibile accedere al materiale digitalizzato in breve tempo e in remoto ma anche una trasformazione di tipo culturale perché l'archivio operativo animato e vivo di fatto modifica le forme di produzione della conoscenza. Non è più un luogo di conservazione ma diventa anche un luogo di produzione e diventa nelle parole di Giuliani lo spazio instabile e insicuro di una continua creazione. Ecco che quindi un patrimonio culturale che vive solo nei magazzini e nei server non è un patrimonio culturale vivo secondo i risultati di questa indagine e siamo di fronte a degli scenari di cambiamento perché il cultural heritage è una risorsa che può essere utilizzata a tutti gli effetti negli schemi di produzione delle industrie creative. La comparsa dell'utente remoto fa sì che questo utente effettivamente non assista esclusivamente ma ha bisogno di usare un servizio di parteciparvi e tutto questo viene ulteriormente arricchito dalle nuove prospettive del movimento open, dell'open knowledge, dell'open culture, dell'open gram e il movimento creative commons e tutto quello che concerne il mondo della remix culture perché infatti gli utenti remoti non assistono solamente ma si aspettano la possibilità di discutere, condividere, remixare quello che consumano. In queste nuove prospettive quindi è interessante considerare che in ambiente digitale gli oggetti sono soprattutto manipolati perché il libero accesso è una manifestazione intrinseca della cultura contemporanea. In effetti anche l'Unione Europea ha invitato le istituzioni culturali a liberare i propri dati nell'agenda digitale europea nel 2020. Quello che però la cultura digitale mette in campo è proprio per sua stessa natura e sono nuove logiche di decentralizzazione e di accesso trasversale che rende possibili ma soprattutto immediate alcune azioni per cui qualsiasi tipo di materiale messo effettivamente e consultabile online può essere prodotto, modificato, consumato, trasmesso e può essere quindi anche manipolato. Con la rivoluzione digitale quello che prima era noto come pubblico inoltre ora partecipa attivamente alla costruzione della propria cultura. Chiaramente come tutti i miei colleghi assegnisti dopo un mese neanche ci siamo trovati travolti dall'avvio dei nostri progetti ci siamo trovati travolti e sconvolti dall'arrivo della pandemia da covid che comunque dobbiamo dire che ha prodotto almeno riguardo la trasformazione digitale una profonda accelerazione. Infatti questo evento dirompente ha portato delle sfide senza precedenti per il settore del cultural heritage e della moda anche in particolare. Però fin da subito ci siamo resi conto che le azioni intraprese in emergenza, le azioni intraprese proprio con questo spirito emergenziale avrebbero però contribuito a plasmare le risposte dell'intero settore. Riguardo i risultati del progetto vado veloce perché il tempo è poco. All'inizio abbiamo avuto la fortuna nel primo mese di realizzare un primo workshop progettuale in presenza che ha visto la partecipazione di una ventina di studenti nella progettazione di nuovi capi moda partendo dagli archivi storici dei nostri partner di progetto. Dopodiché sconvolti dall'arrivo del lockdown e dall'arrivo della pandemia ci siamo chiesti come credo tutti i gruppi possiamo continuare le attività di questo progetto se sì come e abbiamo avviato un percorso di dialoghi digitali che sì hanno affrontato il tema degli archivi della moda ma hanno anche aperto a nuove prospettive. Questo ci ha permesso di poi di continuare di proseguire con le attività progettuali e finalmente quando siamo riusciti a tornare in presenza abbiamo organizzato un nuovo workshop, un secondo workshop progettuale in collaborazione con i partner attingendo all'archivio della European Fashion Heritage Association. Questa volta il workshop è stato più grande, ha visto il coinvolgimento di più persone, il coinvolgimento di 70 studenti che divisi in gruppi sono stati chiamati a reinterpretare un marchio modo attualmente inattivo ma la cui memoria sopravvive negli archivi. Da questo secondo workshop è risultata una pubblicazione in un guest post nel blog della European Fashion Heritage Association per l'appunto è la creazione di un website che raccoglie i risultati del workshop e i progetti che ne sono derivati. Dopodiché è proseguita l'organizzazione di eventi di disseminazione con l'organizzazione di un ciclo di conferenze che andava a cercare di individuare e delineare quelle che potevano essere le trasformazioni avvenute nei due anni di pandemia. In realtà questa è avvenuta dopo un anno, questo evento era dopo un anno, nel primo anno di pandemia le trasformazioni dirompenti che c'erano stati nel mondo culturale nel mondo della moda. Chiaramente oltre a eventi di disseminazione di tipo chiamiamolo più divulgativo quindi eventi aperti a tutti, alla partecipazione di tutti, sono state svolte anche per disseminazione, ci siamo dedicati anche alla scrittura di diverse pubblicazioni scientifiche, l'aspetto però secondo me più interessante come risultato del progetto è che la conoscenza acquisita durante i due anni che hanno visto questo progetto è andata a costruire una base solida per poter presentare nuovi progetti da finanziare e quindi con quello che è chiaramente emerso dai risultati di AVO, io sono diventata grazie al curriculum che sono riuscita a sviluppare in questi due anni, sono diventata RTDA e lavoro adesso sulla transizione tecnologica e digitale del sistema moda e riscontro un grande ruolo dell'archivio storico all'interno di questo processo di trasformazione. Abbiamo avuto un finanziamento per un progetto che utilizza le tecniche di haptic visuality che sarebbe cercare di trasferire le sensazioni tattili tramite la vista per gli archivi dei materiali e abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico su un progetto denominato Prato Figital che sostanzialmente porta il materiale degli archivi storici nel mondo del metaverso per cui si producono nuovi contenuti digitali e audiovisivi partendo dagli archivi storici d'impresa e da quello del Museo del Tessuto. Il progetto è stato appunto finanziato dal MISI e vede partner come Fondazione Sistema Toscana, il Museo del Tessuto, Win3 e case di produzione come è di Indiana Production. Io ho finito, vi ringrazio.